erano presso poco le 6 quando la macchina della polizia giudiziaria si fermò in avenu carnault davanti alla casa dove vivevano i guen ma accostata al marciapiede di fronte con il muso verso l'avenue d'eternet l'oscurità era scesa presto dato che quel giorno come anche i tre precedenti non si era visto il sole le luci erano accese nella portineria e anche al quarto piano dei guen nell'ala sinistra dell'appartamento qui e là altre finestre erano illuminate alcuni appartamenti si trovavano momentaneamente vuoti gli otterbon una famiglia di finanzieri belgi ad esempio stavano passando l'inverno in egitto il conte di tavera e i suoi del secondo piano trascorrevano la stagione della caccia nel loro castello nel sud della loira sprofondato nel sedile della macchina e infagottato nel cappotto con la pipa che sbucava dal bavero alzato maigret non si muoveva e appariva così di cattivo umore che dopo qualche minuto l'autista aveva tirato fuori di tasca un giornale mormorando le dispiace non si capiva come facessi a leggere solo alla luce di un lampione a gas maigret era stato imbronciato per tutto il pomeriggio non era esattamente di cattivo umore i suoi collaboratori lo sapevano ma gli effetti erano gli stessi e al chiede sorfevra si erano passati la parola di non disturbarlo praticamente non era uscito dal suo ufficio se non per far capolino due o tre volte in quello degli ispettori che aveva guardato con occhi smarriti come se avesse dimenticato cosa ci fosse andato a fare aveva chiuso pratica in sospeso da settimane con uno zelo accanito quasi fossero improvvisamente diventate di estrema urgenza verso le quattro e mezzo aveva fatto la prima telefonata all'ospedale americano di nion li il professor guen sta operando sì ne avrà almeno per un'ora chi parla aveva riattaccato e si era messo a rileggere il rapporto di jean vie sugli inquilini del palazzo e le dichiarazioni da loro rese nessuno aveva sentito lo sparo sullo stesso piano di lui filon a destra viveva una certa signora mette tal una vedova ancora giovane che quella sera era a teatro al piano di sotto i cremiers avevano dato una cena per una decina di ospiti che si era conclusa rumorosamente poi aveva lavorato un altro caso e fatto qualche telefonata senza importanza alle cinque e mezzo quando aveva richiamato nulli gli avevano risposto che l'operazione era appena terminata e il professore si stava vestendo fu allora che il commissario lasciò il che sui marciapiedi di avenu carno passavano poche persone e anche le macchine erano rare da sopra la spalla dell'autista maigret poteva leggere un grosso titolo in prima pagina pierrot il sassofonista rimesso in libertà era stato il commissario a informare i giornalisti mantenendo così la parola l'orologio del cruscotto era leggermente luminoso e segnava le sei e venti se ci fosse stato un bistrone le vicinanze maigret sarebbe andato a bere qualcosa e adesso gli dispiaceva di non essersi fermato per strada solo alle sette meno dieci un tassì si fermò davanti al palazzo etienne guen scese per primo e rimase fermo sul marciapiede aspettando che l'assistente scendesse a sua volta guen si trovava sotto un lampione e la sua sagoma si stagliava nel fascio di luce doveva essere più alto di maigret almeno di mezza spanna e aveva le spalle larghe quasi come le sue era difficile giudicarne la corporatura per via del cappotto molto ampio che sembrava troppo largo per lui e parecchio più lungo di quanto quell'anno dettasse la moda evidentemente non si preoccupava granché del proprio aspetto e si era messo il cappello di sghimbescio visto così dava l'impressione di un uomo corpulento che fosse dimagrito e a cui restasse solo un'ossatura robusta aspettava senza impazienza fissando distrattamente un punto nello spazio che la giovane donna prendesse nella borsa i soldi per l'autista poi mentre il tassì si allontanava restò ad ascoltare quello che lei gli diceva senza dubbio al momento di lasciarlo gli ricordava gli appuntamenti del giorno seguente la donna lo accompagnò fin nell'androne dove gli porse la cartella di cuoio scuro che aveva in mano e lo guardò entrare nell'ascensore prima di dirigersi verso Avenue d'Eternet seguila bene capo l'auto doveva solo scendere in folle per il viale in pendenza lo sildecot camminava in fretta senza voltarsi era piccola bruna e per quanto si poteva giudicare grassoccia svoltò in rudezza cassia e subito dopo entrò in una salumeria poi nella panetteria accanto e infine un centinaio di metri più avanti in uno stabile dall'aria scalcinata maigret aspetta una decina di minuti in macchina prima di entrare anche lui nel palazzo e rivolgersi alla portinaia la guardiola ingombra di un letto di un lettino per bambini era di un genere ben diverso da quella di Avenue Carnot la signorina Decaux quarto piano a destra è appena rientrata non c'era ascensore al quarto piano maigret suonò un campanello e udì dei passi all'interno una voce chiese da dietro la porta chi è commissario maigret un momento per favore nella voce non c'era né sorpresa né spavento prima di aprire la persona dietro la porta andò in un'altra stanza e tornò dopo qualche secondo il commissario capì il perché quando un battente si chiuse e la donna comparve in vestaglie e pantofole prego disse lei guardandolo con curiosità l'appartamento composto di tre stanze cucina era di una pulizia estrema con il parquet così ben lucidato che ci si poteva scivolare sopra come su una pista di pattinaggio la signorina Decaux fece entrare maigret in un salotto o meglio una specie di studio con un divano coperto da una stoffa a righe molti libri sugli scaffali un fonografo e altri scaffali carichi di dischi sul cammino in cui la donna aveva appena acceso qualche ceppo c'era una foto incorniciata di Etienne Gouin le dispiace se mi tolgo il cappotto si figuri mi stavo mettendo comoda quando ha suonato non era bella aveva i lineamenti irregolari e le labbra troppo carnose ma il corpo sembrava attraente stava per mettersi a tavola non importa si accomodi gli indicò una poltrona mentre lei si sedeva sul bordo del divano incrociando i lembi della vestaglia sulle gambe nude non gli faceva domande ma lo osservava come certe persone osservano una celebrità che vedono finalmente in carne e ossa ho preferito non disturbarla in ospedale le sarebbe stato difficile perché ero in sala operatoria di solito assiste alle operazioni del professore sempre da molto da dieci anni prima ero già su allieva è laureata in medicina sì posso chiederle quanti anni ha 36 rispondeva senza esitare con voce abbastanza piatta ma dando un'impressione di diffidenza se non di ostilità sono qui per chiarire alcuni punti lei saprà sicuramente che in un'inchiesta come quella che conduco occorre controllare ogni cosa la donna aspettava la domanda se non erro lunedì sera lei è andata a prendere il suo principale in avvenucarno un po prima delle otto esatto ho fermato un tassi e ho telefonato il professore dalla guardiola della portinaia per dirgli che ero arrivata fa sempre così sì salgo solo quando c'è del lavoro da sbrigare in studio o dei documenti da ritirare dove è stata mentre il professore scendeva davanti alla porta dell'ascensore quindi sa che scendendo si è fermato si è fermato qualche minuto al terzo piano immagino che lei sappia sì so tutto perché non è chiesto direttamente al professore maigret preferì non rispondere si è comportato come le altre sere non sembrava preoccupato lo era solo per le condizioni del suo paziente lungo la strada le ha detto qualcosa non parla mai molto dovete essere arrivati al coscendo un po dopo le otto la cosa avete fatto siamo entrati subito nella stanza del paziente assieme all'interno di guardia avete passato là tutta la serata no il professore è rimasto circa mezz'ora nella camera ad aspettare certe reazioni che non si verificavano gli ho detto che faceva meglio ad andare a riposarsi che ora erano quando è salito al quarto piano so che lo ha già chiesto in ospedale glielo ha riferito alla caposala del reparto questo non ha importanza che ora erano non erano ancora le nove non è salita con lui sono restata con il paziente è un bambino lo so a che ora è sceso il professore verso le 11 sono andata ad avvisarlo che le reazioni sperate si erano verificate è entrata nella stanza dove stava riposando sì era vestito di solito in ospedale si corica vestito si era soltanto tolto la giacca e aveva allentato il nodo della cravatta insomma tra le otto e mezzo le 11 lei è sempre stata al capezzale del malato quindi il professore sarebbe potuto scendere e uscire dall'ospedale senza che lei se ne accorgesse la signorina deco si aspettava probabilmente quella domanda perché maigret l'aveva già fatta al coscien e dovevano avergliela riportata nonostante ciò il commissario vide che il suo petto si gonfiava a un ritmo più veloce forse si era preparata la risposta è impossibile perché io sono salita le 10 e un quarto per assicurarmi che non avesse bisogno di niente maigret che la guardava dritto negli occhi disse senza alzare la voce con molta calma sta mentendo vero perché dice questo perché sento che sta mentendo mi ascolti signorina deco non mi è difficile ricostruire stasera stessa le sue mosse al coscien anche se ha dato l'inveccata al personale c'è sempre qualcuno che si confonde e confessa la verità lei non è salita prima delle 11 il professore non ha lasciato l'ospedale come fa a saperlo perché lo conosco meglio di chiunque altro gli indicò il giornale della sera su un tavolino l'ho trovato su un tavolo a nullì e l'ho letto perché ha rimesso in libertà quel ragazzo si riferiva a pierrot di cui maigret da dove era seduto poteva leggere il nome al contrario è proprio sicuro che non sia lui il colpevole non sono sicuro di niente ma lei sospetta che sia stato il professore a uccidere quella là invece di risponderle maigret chiese la conosceva lei dimentica che sono l'assistente del professor guen c'ero anch'io quando l'ho operata non le piaceva perché avrei dovuto detestarla dato che il commissario aveva la pipa in mano gli disse può fumare non mi dà fastidio è vero che lei aveva col professore rapporti più intimi di quelli professionali le hanno detto anche questo fece lei sorridendo con una certa condiscendenza non è troppo conformista commissario maigret dipende dal significato che da lei a questa parola mi chiedo se lei non ha idee troppo rigide in fatto di morale presto saranno 35 anni che sono nella polizia cara signorina in questo caso non parli di rapporti intimi di rapporti intimi ne avevamo ed erano i nostri rapporti di lavoro il resto non ha importanza vuol dire che tra voi non c'è amore di sicuro non è il senso in cui lo intende lei ammiro il professor guen più di chiunque altro al mondo faccio tutto il possibile per aiutarlo gli sto accanto per dieci o dodici ore al giorno spesso di più e a volte non se ne accorge nemmeno tanto questa vicinanza è diventata naturale per entrambi non è raro che si passi insieme la notte ad aspettare che in un paziente si manifestino certi sintomi quando lui opera fuori parigi o all'estero lo accompagno pago io i tassi e sono io a ricordargli gli appuntamenti e anche ad avvertire sua moglie che lui non torna a casa all'inizio molto tempo fa è successo tra noi quello che succede di solito tra un uomo e una donna che si trovano continuamente gomito a gomito lui non ci ha dato peso si è comportato allo stesso modo con le infermiere e con tante altre neanche lei ci ha dato peso esatto lo guardava dritto negli occhi come per sfidarlo a contraddirla non è mai stata innamorata di chi di chiunque del professore non nel significato che lei attribuisce a questo termine però gli ha dedicato la vita sì è stato lui a sceglierla come assistente una volta finita la sua specializzazione sono stato io a proporglielo avevo quest'idea fin da quando ho cominciato a seguire il suo corso ha detto che all'inizio c'è stato qualcosa tra voi devo dedurre che non è più così è un ottimo confessore commissario ogni tanto capita ancora in questa casa ma lui non ha mai messo piede qui non me lo vedo a salire quattro piani a entrare in quest'alloggio all'ospedale a volte a volte anche nel suo appartamento lei dimentica che gli faccio da segretaria che passiamo spesso parte della giornata in avenu carnot conosce bene la moglie la vedo quasi tutti i giorni come sono i suoi rapporti con lei maigret ebbe l'impressione che lo sguardo di lucille deco si indurisse formali vale per entrambe cosa sta cercando di farmi dire la verità la signora gwen mi considera la stregua delle sue domestiche mettiamola così senza dubbio deve fare uno sforzo per convincersi che è lei la moglie del professore l'ha vista ancora una volta maigret preferì non rispondere perché il suo principale l'ha sposata per non stare solo immagino è successo prima che lei diventasse la sua assistente vero parecchi anni prima gwen va d'accordo con la moglie non è certo tipo da mettersi a litigare con chi che sia e ha una capacità eccezionale di ignorare le persone ignora la moglie mangiano assieme diverse volte alla settimana tutto qui per quel che ne so io sì perché pensa che lei lo abbia sposato ai tempi era una semplice infermiera non lo scordi il professore è considerato un uomo ricco lo è e guadagna molto i soldi per lui non sono un problema quindi possiede una certa fortuna lei a noi e a cavallo le gambe senza dimenticarsi di incrociare i lembi della vestaglia insomma secondo lei con la moglie non è felice non è esattamente così quella donna non può renderlo infelice e lulù neanche lulù ne sono convinta se non fosse stato innamorato di quella ragazza come spiega che per più di due anni non glielo posso spiegare deve arrivare a capirlo da sé qualcuno mi ha detto che ce l'aveva nel sangue chi non è così sì e no era diventata una cosa che gli apparteneva ma non avrebbe divorziato per sposarla lei lo guardò con stupore protestò nemmeno per idea non si sarebbe mai complicato la vita con un divorzio neanche per sposare lei non gli è mai passato per la testa e a lei a russì neanche a me cosa ci guadagnerei al contrario ci rimetterei vede ero io sono ancora io ad avere la parte migliore il professore non fa quasi niente senza di me prendo parte alle operazioni conosco le sue pubblicazioni a mano a mano che le scrive spesso sono io a fare le ricerche non si sposta per parigi in tassi senza che io gli sia accanto ha paura di morire all'improvviso per chi me lo chiede sembrava sorpresa della cume del commissario da qualche anno è così più o meno da quando ha scoperto che il suo cuore non è in condizioni perfette ha subito consultato diversi colleghi forse lei non lo sa ma in genere i medici hanno più paura delle malattie che i loro pazienti lo so con me non ne ha mai parlato ma a poco a poco si è abituato a non rimanere da solo se avesse una crisi in tassi ad esempio cosa potrebbe fare lei quasi niente ma lo capisco insomma è l'idea di morire da solo che lo spaventa qual è la ragione precisa per cui è venuto a trovarmi commissario forse per non disturbare inutilmente il suo principale la sua amante è stata uccisa lunedì sera non mi piace quella parola è impropria la uso nell'accezione che vi si attribuisce di solito guen ha avuto la possibilità materiale di commettere il delitto come lei ha appena ammesso è rimasto solo al quarto piano dell'ospedale dalle nove meno un quarto alle undici niente gli impediva di scendere e di farsi portare in avenu carno innanzitutto se lei lo conoscesse l'idea che abbia potuto uccidere qualcuno non la sfiorerebbe nemmeno e invece sì rispose lui fu così categorico che lei lo guardò con stupore senza cercare di protestare cosa vuole dire lei concorda sul fatto che il suo lavoro la sua carriera le sue ricerche scientifiche la sua attività medico accademica la chiami come vuole è l'unica cosa che conta per lui sì in un certo senso in un senso molto più ampio che per chiunque io abbia mai conosciuto parlando del professore qualcuno ha usato l'espressione forza della natura questa volta lei non chiese chi le forze della natura non si curano dei danni che provocano se per una ragione qualsiasi lulù avesse iniziato a rappresentare un ostacolo per la sua attività in che modo avrebbe potuto ostacolare l'attività del professore lei sapeva che era incinta e questo cambia qualcosa non era sembrata sorpresa lo sapeva il professore me ne ha parlato quando sabato scorso è sicura che gliene abbia parlato sabato assolutamente tornavamo dall'ospedale in tassi mi ha detto nella maniera in cui mi dice molte cose con non curanza con l'aria di parlare tra sé credo che luisa sia incinta che espressione aveva normale piuttosto ironica come sempre vede molte cose alle quali gli altri danno importanza per lui non ne hanno nessuna mi sembra strano che gliene abbia potuto accennare sabato quando lulù ha saputo solo lunedì sera verso le sei lei dimentica che è medico e che con quella ragazza ci andava a letto pensa che ne abbia informato anche la moglie è poco probabile immagini che lui filon si sia messa in testa di farsi sposare non credo che a lei potesse venire in mente un'idea del genere e se anche fosse così lui non l'avrebbe uccisa è fuori strada commissario non dico che lei abbia rilasciato il vero colpevole non capisco neppure per quale motivo quel pierrot potrebbe aver ucciso la ragazza per amore se lei avesse minacciato di lasciarlo la donna scrollò le spalle cerca troppo lontano ha qualche idea preferiscono non averne il commissario si alzò per svuotare la pipa nel camino e meccanicamente come fosse stato a casa sua prese le pinze per sistemare i ceppi stava pensando alla moglie chiese dandole le spalle con un tono di voce indifferente non sto pensando a nessuno non è simpatica come poteva esserle simpatica germain goen era una semplice infermiera figlia di pescatori che dall'oggi al domani era diventata la legittima consorte del professore mentre lei lucille de co che gli aveva dedicato la vita ed era in grado di aiutarlo nelle sue ricerche non era che la sua assistente ogni sera quando lasciavano l'ospedale lei scendeva dal tassin insieme a lui ma solo per salutarlo sul portone e poi tornare nel suo alloggio di rude sacassia mentre lui saliva dalla moglie sospetta di lei signorina de co non ho mai detto questo ma lo pensa penso che lei commissario non esita a informarsi sulle mosse del mio principale durante tutta la serata di lunedì ma non si preoccupa delle mosse della moglie che cosa ne sa le ha parlato quanto meno ho saputo non importa come che ha trascorso la sera con la sorella conosce antoinette non di persona me ne ha parlato il professore a lui non piace è lei che lo detesta un giorno il professore mi ha detto che ogni qualvolta si trovano tutti e due nello stesso posto si aspetta sempre che lei gli sputi in faccia non sa altro della signora goen no fece lei seccamente non ha un amante che io sappia no e poi non sono affari miei se la colpevole fosse lei avrebbe il coraggio di lasciar condannare il marito dato che la signorina de co non rispondeva megare non poteva fare a meno di sorridere ammetta che non le dispiacerebbe se scoprissimo che è stata lei ad ammazzare lulu l'unica cosa di cui sono sicura è che non è stato il professore lui le ha parlato del delitto martedì mattina no non ne sapeva niente nel pomeriggio mi ha detto di sfuggita che senza dubbio la polizia gli avrebbe telefonato per chiedergli un appuntamento e dopo non ha più accennato alla faccenda la morte di louise non l'ha colpito se ne ha sofferto non lo ha fatto vedere non sembra diverso dal solito immagino che non avrà nient'altro da dirmi il professore le ha mai parlato di pierre irou il sassofonista no mai non ha mai pensato che potesse essere geloso di lui non è uomo da essere geloso di chi che sia la ringrazio e mi scuso per aver ritardato la sua cena se le torna in mente qualche particolare interessante mi faccia una telefonata non vedrà il mio principale non so ancora stasera è a casa e la sua unica serata libera di questa settimana a cosa la dedicherà al lavoro come sempre ha le bozze del suo libro da correggere maigret indossò il cappotto sospirando lei è una strana ragazza signorina deco mormorò come fra sé non ho niente di speciale arrivederci arrivederci signor commissario lo accompagnò sul pianerottolo e lo guardò scendere fuori maigret ritrovò la macchina nera e l'autista che gli aprì la portiera per poco non gli diede l'indirizzo di avenu carno prima o poi doveva decidersi a parlare a quattro occhi con guen perché continuava a rimandare sembrava che gli girasse intorno senza osare avvicinarglisi come se la personalità del professore lo intimorisse al che probabilmente a quell'ora etienne guen stava cenando con la moglie quando passò maigret vide che nell'ala destra dell'appartamento le luci erano spente su un punto almeno lucille de cosi sbagliava contrariamente a quello che aveva affermato i rapporti fra i coniugi guen erano meno freddi di quanto lei pensasse l'assistente sosteneva che il suo principale non parlava delle sue cose personali alla moglie eppure la signora guen aveva fornito al commissario particolari che poteva conoscere solo attraverso il marito il professore aveva detto anche a lei che credeva che lulù fosse incinta il commissario fece fermare la macchina un po più avanti di fronte al bistrò dove una volta era entrato a bere un grog quella sera faceva meno freddo e ordinò un acquavite benché non fosse l'ora adatta agli alcolici forti solo perché era quello che aveva bevuto il giorno prima al che de sorfevre lo prendevano in giro per questa mania se per esempio cominciava un'inchiesta con un calvados la continuava col calvados sicché aveva delle inchieste alla birra altre al vino rosso e altre ancora al whisky aveva quasi deciso di telefonare in ufficio per chiedere se c'erano novità e poi di farsi portare direttamente a casa ma cambiò idea per il semplice fatto che la cabina era occupata durante il tragitto non aprì bocca ancora bisogno di me gli domandò l'autista una volta entrati nel cortile della polizia giudiziaria fra qualche minuto me riaccompagnerai in boulevard richard le noire a meno che tu non abbia terminato il servizio sono di turno fino alle 8 maigret salì nel suo ufficio accese la luce e nello stesso istante dalla porta di comunicazione entrò lucas ha telefonato l'ispettore janin è seccato di non essere stato avvertito che abbiamo trovato pierrot tutti si erano dimenticati di janin che aveva continuato a perlustrare il quartiere intorno a boulevard della chapelle finché non aveva saputo dei giornali che il sassofonista era stato interrogato da maigret e poi rilasciato chiede se deve tenerlo d'occhio non ce n'è più bisogno nient'altro lucas stava per aggiungere qualcosa quando squillò il telefono rispose maigret sono il commissario maigret disse aggrottando le sopracciglia lucas capì immediatamente che era una chiamata importante sono etienne guen fece la voce all'altro capo della linea mi dica ho saputo che ha appena interrogato la mia assistente lucille deco aveva telefonato al suo principale per riferirgli il loro colloquio esatto confermò maigret dato che voleva delle informazioni sul mio conto mi sarebbe sembrato più corretto da parte sua rivolgersi direttamente a me lucas ebbe l'impressione che maigret perdesse un po la calma e facesse uno sforzo per mantenere il sangue freddo è una questione di punti di vista rispose piuttosto seccamente lei sa dove abito d'accordo verrò a trovarla ci fu un attimo di silenzio all'altro capo della linea il commissario udì confusamente una voce femminile con molta probabilità era la signora guen che diceva qualcosa al marito il professore chiese quando tra un'ora un'ora e mezzo non ho ancora cenato l'aspetto riattaccarono guen domandò luca maigret fece cenno di sì e cosa vuole essere interrogato sei libero per andare là con lei sì ma prima mangiamo un boccone andarono in place du fin al tavolo dove il commissario aveva pranzato e cenato tante di quelle volte che veniva chiamato il tavolo di maigret per tutta la durata del pasto maigret non disse se una parola